A meno di tre mesi dalle elezioni presidenziali di marzo, il presidente russo Vladimir Putin si avvia a ottenere il suo quarto mandato e di fatto è senza rivali. Putin, in occasione della conferenza stampa di fine anno, si è presentato come il candidato del popolo. Correrò da indipendente annunciato, ma avrò bisogno del sostegno della gente. Ora apre anche al dialogo con i suoi oppositori. Bisogna trattare con rispetto l'opposizione responsabile e capace di agire, ha dichiarato Putin al congresso del suo partito Russia Unita. Essere un'opposizione di questo tipo, ha aggiunto, non vuol dire solo avere la voglia e la volontà di battersi contro il potere e accusarlo di tutti i peccati mortali. Anche noi conosciamo i problemi che questo paese affronta e ha detto ancora, essere responsabile vuol dire avere un piano chiaro di azioni positive. Secondo un recente sondaggio, oltre l'80% dei russi vuole ancora Putin presidente. D'altronde, al di là dei proclami, tutti i suoi potenziali oppositori, come Alexei Navalny, sono fuori gioco.